Pierpaolo Petrucci, una riunione che verrà convocata presumibilmente i primi di settembre. Obiettivo fare un po' il punto sullo stato di salute dei ponti, del cavalcavia dopo quel che è successo a Genova, anche l'Abruzzo è sotto la lente di ingrandimento. Politicamente una riunione che sarà trasversale, nel senso che al di là di ogni colore politico qui c'è la sicurezza dei cittadini prima di tutto da salvaguardare. Assolutamente sì, devo dire che la commissione che ho l'onore di presiedere si è contraddistinta in questi anni per una comunità di intenti, diciamo che ho cercato sempre il dialogo competitivo, il confronto con le opposizioni, con il 5 Stelle, con il centrodestra per cercare di arrivare alla condivisione delle scelte sia della programmazione delle commissioni, dei calendari da portare avanti sia soprattutto dei temi da trattare. Ci sono dei temi che vanno oltre gli steccati di appartenenza ai colori politici e su quei temi ho cercato sempre, con grande apprezzamento a parte delle minoranze, sempre un dialogo. Sul tema chiaramente delle infrastrutture, sulla sicurezza delle infrastrutture, che dopo i fatti di Genova hanno determinato, è inutile dirlo, una preoccupazione sociale, come potete immaginare. Abbiamo deciso di convocare per i primi di settembre, il primo che ho sentito è stato il collega del 5 Stelle, Riccardo Mercante, insieme abbiamo lavorato molto bene in questi anni, anche insieme al Vicepresidente Emilio Gliampieri, per cercare di far luce su quello che è lo Stato, chiaramente dei ponti, delle infrastrutture, dei spazi pubblici, quelle che sono infrastrutture di collegamento. È chiaro che le infrastrutture sono un tema che riguarda il Paese, perché non sono le strade dell'Abruzzo frequentate solo dagli abruzzesi, ma sono frequentate da milioni di italiani, da milioni di cittadini nella comunità europea, e su questo dovrà fare luce il Governo, sulla manutenzione, sullo Stato delle convenzioni, che gli ho contestato, ho criticato, sapete qual è la mia formazione politica, la mia visione statalista, io non avrei mai privatizzato dopo il 91-92 tutto quello che era la spinta propulsiva che proveniva a seguito di Tangentopoli, quelli che erano stati i disastri del Paese, e avrei tenuto almeno servizi pubblici in mano allo Stato, dei servizi fondamentali, chiave strategici. Su questa vicenda oramai si è andato verso le privatizzazioni, bisogna capire qual è lo stato delle manutenzioni, lo stato che incoverzano questi ponti, queste infrastrutture, girano foto su Facebook, sui social network, che gettano nella preoccupazione e nello sconforto tantissimi cittadini, ma in primis che frequento quelle strade, tra cui quella di Genova, l'ho frequentata lo scorso anno con i miei bambini per andare all'acquario di Genova, bisogna fare luce e dare di queste risultanze che ci saranno in questa Commissione e più possibile comunicazione a tutta la popolazione per renderle dotto di quello che è lo stato dell'arte.